per ora forse c'ha ragione non lo so va bene cosa? perfetto si da qui da ragosta un match up che ha dell'incendibile su spiroth possiamo dire possiamo dirlo con grande chiarezza contro il serpente solido in versione non so cosa sia non colgo la reference mi dispiace purtroppo neanche io però comunque cancone oh counter viene grabbato bello il recovery di sigma male non si fa prendere dal down air cancella l'animazione dell'app di dth mettendo con quello che penso è un app filt attenzione un po' l'angolo un po' strano è che se l'è rischiata perché voleva recuperare orizzontale che giustamente è più safe perché se fosse andato troppo in alto sarebbe stato punito quindi di essere rischiata per quel motivo la ah per la cosa penso sia difficile farli entrare su dnais non lo so però penso sia difficile anche perché c'è il cypher che da passare è capito non lo so potrebbe essere addirittura un un aiuto o mi è stato per mezzo millimetro se non si può gestire i suoi spazi si trova in difficoltà si fa fornerato eccetera se ne è un po' gestiti gli spazi attenzione tutte le rail molto aggressive ci sta oh cypher di nuovo oh bel bayern eh qui attenzione grab attenzione grab attenzione grab ah perché non prende per proprio l'accoppiato perché snake si era si era allacciato bene scarp attenzione tante hit attenzione al bayern il bayern è dura per per capi ma comunque secondo me non infattibile non impossibile no infatti anche la vedo abbastanza lo capi è proprio deve rallentare un po' il ritmo della partita perché a tutti i rifiuti credo spesso il controllo dello stage è facile poi questo è il pro quad molto bene questa è stata una bella idea questa è stata non è andata fuori troppo hanno entrato la combo dal back row scensione purtroppo ho sbagliato il fight b e la recovery ecco comunque questa partita è andata così la recovery purtroppo quando si sbaglia la stock vola via proprio 1 a 0 per the split si porta a casa il primo game di questa best of 5 perché ricordiamolo ora siamo in best of 5 ryantholo manuel ci dice immagina colpire snake colpire eeeh 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 ok dai adesso eeeh 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 non so che sarò momenti Bello! Bellissimo spot d'agg2grab Attenzione! Apera per Nair! Prova il Pair! Attenzione! Altri a Pair! L'ho già dalla fine alla morte! Non ha preso l'ultima hit, sennò penso che scoppiava! Bello! Uh, bella AirDogia! Sì, per Snap è abbastanza facile Ha più una PPP Decidi di fare Aerial In realtà può fare altre cose Può anche reversarsi con il momentum Con... Non mi ricordo Con la granata Però, vabbè Oh, bello! Da un smash Non so come ho fatto a aspettarselo No! Oh! Tenticone! E qui abbiamo tutti temuto che fosse finita E qui però è dura Eh, già! Sì, a quella percentuale sì 151 Andiamo a trovare la kill È ok, è ok E qui aspetta No, a fare assolutamente 2,2 percentuali even È ancora tutto da... Da vedere Le fombo a zero Da una throw Di Game & Watch Eh, queste te le prendi Queste sono Molto forte Molto forte Poi la P Game & Watch veramente Quando... Oh, attenzione Ha anche assorbito un po' di... Il tecchio si sta riempendo eh Il tecchio si sta riempendo Molto... Molto intelligente Molto logico Molto secchione Ah, se l'ha detto eh L'ha detto Ok, ok Attenzione, miss alla punish Jab Out of shield Perché l'ho pressata Attenzione Grab Ha regirato un'altra parte Bello che l'ha aspettato Sì esatto Ha aspettato la recovery di... Sì Che finisse l'armor E... Vediamo cosa farà adesso Comunque lo tiene fornerato Si sta riempendo molto meglio lo spazio... Aragosta 100.000 volte meglio Sì Infatti vedo Da squid che Sta un po' meno provando setup Non vedo molto posizionarlo Un po' più Un sovrappite Attenzione Shield poke Shield stab Non so come si dica Comunque La colpito Nonostante Per molto Molto forte Oddio Ragazzi urlavo Ragazzi attenzione Questo game è molto 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 solido Ma no Mi sembrava il 9 Eh però Era un 9 versato Se vinceva il 9 Se vinceva il 9 Comunque sta prendendo veramente Un sacco di grab No veramente Su La giocata Granbench 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 Oh Questo game watch Non è entrato Facendo il level up Oddio Oh attenzione Non entra per un Per un frame Forse qualcosa come 2-3 frame Ed out smash Ha usato Il secchio slide Oh Attenzione Un altro smash Vantaggio Molto molto grande Per la ragione Da scudo In una brutta situazione Lo potrebbe uccidere anche un soffio Però Dash attacco Game and watch Purtroppo Sarebbe morto Sarebbe morto Anche con uno scudo Però Questa calda giornata Questa calda giornata Un peso game and watch È proprio quello che ci voleva Oh Oh Reflect assurde Tensione Oh Reflect assurde Penso che questo sia un bel match up Per il game and watch Eh ma Mi sembra Mi sembra Mi sembra un buon match up Poi non so se Oh Che altro Non è stata fatta non prendere Ah Che attenzione Che era quella hai risposto Non è noto Anche attacco Che non Oh Juggling Che continua Che non kill Se Dasquid sta provando A lanciare le granate Attenzione Qua Ha capito che avrebbe replettato È andato di dash attack Che bello Il forward chair Ce l'abbiamo Air dodge into Forward chair Come dice Il nostro caro premiatura Cioè Premiatura Uno a uno Trebiatura È lui Premiatura di chi Uno a uno Ma Chi Ma di chi Qui abbiamo visto Una lead molto significativa Cioè Ha veramente tenuta le strette per tutto il tempo Ha una certa Ha capito come adattarsi E Gli ha votato attorno Attorno alle bombe Attorno a tutto quanto Poi entrava Entravano le grab Faceva una sacca di danni Veramente sick Lo posso dire in una parola Si Si Ammalato proprio In juggling Le pombo È riuscito tutto Molto bene Poi Game & Watch Uno dei personaggi leggeri È sopravvissuto sempre Si è notato Una cento speciale Si E tanto attento Alla fine In color Insomma Le bosse che kill hanno di Snake Quindi ho visto Mr. Game & Watch Mazzano le canzoni Mandano le canzoni Snake È perché non ho finito World of Light Eh non ho finito no? Eh no Non ho finito World of Light Mi piace C'è questo nerf Ok 3 2 1 Siamo su Sperava il grugno Che aveva Squid Durante il game Il grugno Non ci ha fatto caso Oh Bella Descena Patrol Oh La PIP Che non ha colpito È adesso È un pochino più Attento il game Nel senso Meno schiaffi E un pochino più attenti Un pochino più attenti Eh beh Dalla Per uscire Dalla combo Oddio Ah bello Non so che cazzo sia successo Però è successo Certo Lo porta fuori Sì Eh lui Se ne va a fanculo Altissimo No Il zecchio È Un tool strano Perché sinceramente Non ho mai capito Può fare tante cose Può fare O repleta O sword Cosa so Cioè No il zecchio Mi sembra down b Sì 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 Il down zecchio Il down zecchio Attenzione 148 Sì Spurco può uccidere Eh sì Ma comunque Un duco ma un bel care che ha un range enorme tra l'altro Rispetto al game Eccolo No in realtà no Non uccide Non uccide Sì 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 Lo prende con il down zecchio Lo prende con il down zecchio Dash attack Vedi si sta muovendo Da molto più paziente È molto È molto È molto paziente Sì Se lo sta gestendo molto in neutral Non rischia più come prima E si tiene a una certa distanza Aspetta tutte le hit La squid sta adottando una strategia diversa Sì assolutamente Però non ti trovi è vero che Comunque Riesce Sì Sta raccando un po' di danni È comunque una stop sotto Quindi Non è una situazione sicuramente facile Però Ah Ma abbiamo visto che Eh Il fatto è che c'è questo Non c'è Non c'è Oh Un jump Un jump Un jump Oh L'ha presa L'ha fumato a sui denti Entra Entra Un jump Un smash 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 Un scioglingua L'ho tentato Attenzione Si racconi Madonna mia L'ha provata L'ha provata Che cazzo è successo? Ah Che cazzo è successo? C4 Non l'ho visto neanche io Era la prima cosina C4 biste è merito. Ho visto le espressioni come... Nani de facto. Beh, attenzione, attenzione. Già vedo molto più... 2 a 1. No, me lo chiamo. Scherzavo. Allora, c'è il prossimo game. Il prossimo game per... Elfato. 9. Adesso la chiamiamo. Ma anche un 10, forse. Un 10 che voglio due stop. La Squid non è un vero Snake Flower, perché? 3, 2, 1, via! Volentieri, Davion, veramente. Io ci ho provato con tutti i miei stessi, mi arrivava al mondo scuro. Non mi ha apporto. Non sapevo che sta finita. Nell'appletta su, giustamente. Oh, ma quant'è te che questa osto... Noi purtroppo non la finchiamo. Che la fincheremo dopo un po'. Oh, tu sei qui. Perché il vino è, Opa? Ehm, ok. Game 4, attenzione. Eh, non ho sopporto della hunter-picking digitale. Dice, freghi l'esterno. Che vuol dire l'esterno? Eh, no, perché non l'hiamo cambiata la prima. Ah, l'hai cambiata l'ora. Ok, ok, ok. Fin de de de, attenzione. Fin de de? Perché lui poteva contro-adattarsi. Cioè, poteva trovare il modo. Oh, belle mazzettate. Adattarsi all'adattamento. Attenzione, bel pain. Bel pain e torna pure addirittura. Sì, ha riportato... Bello, bello, danni su danni. Eh, già di nuovo Ivan. Già di nuovo Ivan, con le percentuali. Il vantaggio come position, dà tensione, trova la mossona, di un posto. Ampunto, mi ha detto che adesso, noi magari siamo, io almeno, avendo conto che sono un pochino più le patte, magari, perché... Vabbè, ma ci sta. Però, c'è veramente, siamo entrambi i player davvero in 3D, cioè, make così... Sì, sì, secondo me, la giota ti sta superando. E sta giocando in tutti i Pg diversi, quindi neanche ha la possibilità di adattarsi, diciamo. Devo switchare playstyle, drasticamente. Sì, però questo vale anche per l'avversario, c'è l'avversario... Beh, però almeno gioca sempre lo stesso Pg, quindi... Oh, bello. Oh, mi ha rilanciato. Bam! Ahia! Attenzione! Che pure incredibile. Eh, Snake deve un attimino in questo attento, perché ok che è da apprezzare questo a 100, però è DDD, capito? Quindi non è che dice... Beh, glieli lancia tutto, vedi? Io soffio addosso e esplode come fosse... 137. Bello! Quindi non è lì, attento. La scotta per puntuali praticamente even. Oh, oh, oh. Sì, resto là in aria. Ahia! Eh, le granate! Su questo stage Snake... Ma hai col base! Cioè, se la cava neanche male, però in realtà neanche per chi ne vedeva le vale. Anzi, le piattaforme gli danno fastidio. E invece con... ...Gord se la puoi descrivere, secondo me è meglio... Ma non lo so se gli dà fastidio. Però... È uno stage che... Secondo me è avvantaggio per entrambi, dico... Sì, ci può stare che even... Però forse Snake, diciamo, se la gioca un pochino ma io, che c'è un pochino i proiettivi, che c'è un po' di proiettivo... Beh, sì, sì, sì. Vabbè, even non dico a livello di verità. Attenzione! Ma che cazzo ha visto? Io che facevo l'analista, intanto... L'ha preso con Nikita. ...esploto il mondo, mi dispiace. Veramente bravo la speed. Dove che tracassare il certo giugno... E niente, comunque abbiamo visto una ragostra a denti stretti, ha giocato veramente bene.